Ed eccoci qui con il nostro nuovo video e come al solito mamma col suo magico ditino ha premuto sulle caselle di S lunga e l'ha comprata tutta! A veganera, ecco ma veganera, mamma mia! Ecco ma veganera, vabbè! Ciao a tutti! E ciao a tutte! Allora, nuovo video, nuovo svuota la spesa, è arrivata a S lunga a casa, avevamo un buono da spendere di 34 euro Però con la fregatura, se non superi i 200 euro andavamo già! Vabbè, da 200 euro, insomma, tanto noi di solito stiamo o un po' meno o leggermente di più ma comunque ci stiamo sempre intorno ai 200 euro Sì sì E quindi abbiamo fatto la spesa, questa spesa va... Che sta dicendo? Va avance, la useremo per due settimane anche più Tre giorni poi basta Ando due settimane e più, abbiamo fatto il menù Stravanza la roba, abbiamo fatto anche un po' di scorta del grana E fu così che fra due giorni vi faremo lo svuota Perché tu mangi come una fognetta? Comunque, io vado davanti, passo le cosine prima che si scongelano Esatto mamma, vai Passami il volante della mia macchina Allora, per la prima cosa abbiamo preso le focacce rotolanti Come siamo queste focacce toscana fatta a forma di volante della mia macchina Che io lo prendo in giro, lo metto anche... Abbiamo preso la versione grande... Ecco, c'è anche le marce E la versione piccola Grande Stanno scongelando, dobbiamo fare velocissimi Queste le do ai ragazzi per la scuola, o Antonia magari se le porta al lavoro per fare lo spuntino E queste grandi le dividiamo a metà, ve le avevamo già detto, no? Le mangiamo magari qualche, babbo con l'insalata al pomodoro agli affettati Insomma, per fare un pranzo veloce ogni tanto fanno comodo Buon appetito Gli spagetti misto per risotto Ma che stai a dire? Che non so, non so, ci stai a dire Misto per risotto e spaghe Ma che? Che stai? Ho letto al contrario Congelato, questi pratimi che cosa c'è dentro? Ehm, è quello che faccio, che uso per fare il risotto Il misto pesce Ah, è quello che poi dopo noi togliamo tutti Sì, togliamo le cozze Le cozze, le cozze Però è buono Esatto, è buonissimo Poi, fermi tutti Allora, dopo che ci hanno telefonato Abbiamo dovuto stoppare E adesso vi faremo vedere, è vero mamma, ditele anche tu Sì Solite cotolette Solite cotolette di pollo e spinaci Quattro pacchi da sei Giusto? Sono sei cotolette Poi abbiamo preso I bastoncini Bastoncini di Merluzzo Un saluto a Merluzzo che ci sta seguendo Sono trenta in ogni pacco E sono tre pacchi da trenta E due pacchi di medaglioni Di zucchine Medaglioni di zucchine Di zucchine E basta Solo zucchine Ok E mettiamo via un attimo questa roba Sì E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Allora abbiamo messo le cose in frigo Perché si stavano scongelando E adesso vi facciamo vedere tutto il resto Mamma Prendi quello che ci fanno Allora sì Ritorno lì Prendo i formaggi Allora Pezzettone del grana Un bel pezzo di grana del padano Dopo Che sarebbe Che significa Dopo mamma Di origine E poi te lo dico Perché non me lo ricordo Di origine Protetta Protetta Comunque da grattugiare con il bibi Per metterlo sulla pasta Poi abbiamo preso L'emmental bavarese Perché praticamente Quelli che c'hanno in pavare Sopra della camicia E quindi hanno fatto l'emmental Poi abbiamo fatto Abbiamo preso Il Gorgon Sole Adop Sempre della linea smart Perché a noi ci piace la smart Perché l'appunto che abbiamo Non ci piace Ah Questo Preso Tra l'altro Guarda come bello scoccolante L'abbiamo preso L'altra volta per provarlo L'abbiamo messo nella pasta E' buonissimo E tra l'altro E' molto Spalmabile Quindi veramente buono Se vi capita Provatelo Perché è buono E costa il giusto E' palmeggiante Al posto giusto Poi abbiamo preso Il formaggino Della linea smart Si è un tanto mio avvantaggio Esatto Poi abbiamo preso Il bufo Il bufo Della linea smart Il bufo che è da mezzo Mezzo chilo Per tenere Mezzo chilo di bufo In caso ci serve Per fare qualche dolcino Qualcosa Questo è buonissimo L'abbiamo mangiato ieri Fatto sulla piastra Veramente buono Si Avete presente il galvanino Ecco Questo è il fratello Questo è il fratello Della linea smart Guarda quant'è 540 grammi 540 grammi Di formaggio a pasta L'abbiamo fatto Da piastra Appunto dicevo E' buonissimo I bambini Se lo sono mangiato Stile Sai Ili Sulla Sulla fetta di pane No Buonissimo Buonissimo Ci abbiamo fatto Un pranzo Un po' Di formaggi Un avanzo Di pizza Insomma Ci siamo arrangiati E' venuto Buonissimo Poi abbiamo preso Lo strachino Della linea smart Eccolo qua Mezzo chilo Questo è un chilo Quanto è questo? Mezzo chilo No Un chilo no Ok E' mezzo chilo Meno 442 grammi Di strachino E anche questo Lo prendiamo sempre E' buono E costa Insomma Non tantissimo Poi abbiamo preso La sorella di Kaori Che ha detto Due Pille delpia Ne abbiamo presa Poco a poco Aspetta Kaori mangiava poco poco Insomma Un pacco di sedile Poi ha visto La cosa Si era fatto Tanto Tanto Eh fatti Ne abbiamo presi due Poi per Babbo Per fare Lo spuntino Al lavoro Abbiamo preso Questo Aspettate Vediamo se si vedono Meglio Quattro Quattro di questi Snack Fatti con All'interno C'è il parmigiano Reggiano E tarallini E i tarallini Comunque Il formaggio E' una buona Fonte Proteica Energizzante Sì Ci sono i tarallini Ma quando mangi Il formaggio Non lo sai Perché non Ma l'autobus Inbenna Sì Aspetta Aspetta Ci sono ancora Formaggi Ancora Formaggi Sì Tre pacchettini Di tonini Un po' di tonino Ce ne sono due All'interno Sono quattro Tre Quanti ne hai presi? Tre Tre pacchettini Tre pacchettini Tre Poi altro Gorgonzola Questo Gorgonzola Qui abbiamo preso Quello che era Dentro alla Che cos'è qua? Questo è quello Del banco Dei freschi Gorgonzola Tosi Sì Sì Forse Daniela Un saluto a Tosi Che ci sta seguendo Io e Daniela Forse senza accorgercene Abbiamo aggiunto Gorgonzola Un modo Un altro Ma vabbè Tanto a casa nostra Gorgonzola Si mangia Non c'è problema Poi abbiamo preso La stracciatela Che io me la mangio subito La stracciatela Tutta me la stracciatela Lui non me la lascia No io non gliela lascio Anzi me la mangio adesso No no Prima di finire il video Voi da lontano Vedrete me Tu mi straccio Sì La stracciatela E poi la burrata La burrata Che mamma L'ha comprata E Bab se l'è mangiata Ok Che cos'è la Poi Tre Tre che sono questi? Pancetta Pancetta affumicata Cupetti di pancetta affumicata Sono tre pacchettini Da 200 grammi Sì della linea smart E' buona L'abbiamo usata già Due o tre volte L'abbiamo provata Costa sempre E' giusto E' per cucinare Insomma per fare il pomodoro O altre cose E' buona Ottima idea Ma una bravissima Poi avevamo preso Lievito Lievito Allora Levati Lievito Che cos'è questo? Lievito di tiro Lievito di tiro No è lievito fresco Sì Per fare la vita Ciao Fai la pizza salato sera Poi abbiamo preso Due etti di Salame Ungherese Per tutti gli altri Salam Ungherese Sì Ah no è un salame Ungherese Come si dice Salame Ungherese Ho messo Due confezioni Da due etti L'una di prosciutto crudo Semidolce Poi abbiamo preso Ecco qua Il problema che vi dicevamo Prima è successo Ma poi tutto così L'hanno mandato Ma anche loro Non ci sono arrivati A dire Che ci hanno portato I fettoni Di prosciutto Cioè praticamente Avevo preso 7 kg di prosciutto cotto No sono quasi un chilo Avevo preso Quattro confezioni Da 200 grammi L'uno Di prosciutto cotto Ferrarini Per fare Le schiacciatine Panini Mangiarlo a tavole Allora invece Cosa hanno fatto Ci hanno mandato Le fette doppie Un centimetro Quattro fette uniche Di prosciutto cotto Ferrarini Quattro Nemmeno due Quattro Uno due tre Quattro Ma cioè Gli è venuto il dubbio Di leggere Che avevo chiesto Il prosciutto a fette Però vabbè Troveremo il modo Di Di consumarlo Qualche fetta La taglierò a cubetti E la congelo Quando ci serve Il prosciutto Per fare pasta Quando è prosciutto O per altre cose Insomma Per fare le torte salate Lo useremo così Che devo fare Se no me lo fai A tritamento Sopra il piattinamento E per i panini La tritiamo Nel frullatore E me lo beco Mannaggia Allora Mi serviva Il prosciutto a fette Come va Quattro Posteriore Di bollo Di bobo Un bel polpo Guardate Quanto polpo Abbiamo con il blando Manto Per farlo a rosso Patatine Via Pranzo veloce Esatto Poi Una panna Da mezzo litro Di da montare Di essere lunga Sicuro che essere lunga Aspetta Mi sembra Da montare È quella dell'Ikea Sì Aspetta Vado davanti La fesa di tacchino Da due chili Perché giustamente Noi siamo in troppi Allora due chili Forse ci basteranno Un giorno Come è pesante Poi abbiamo preso Una bistecca Nel filetto È Bistruta di vitello Ah è di vitello No Yes Ah di vitello italiano Poi Poi abbiamo preso Il filetto di salmone Che babbo odia Il filetto di salmone Per la mamma Che vuole mangiarne Anche un milione Poi mamma Le carotine Le carotine Carotine cotti al vapore Un saluto ai cinesi Che mangiano tutti Cotte al vapore Ma pure io Mamma che è cinese Lei è una cinese Poi le carotine così Snack Che poi avevo preso Il sacco grande E invece ci hanno mandato Il piccolo C'è oggi il disastro Sta spesa Sacco pieno Sacco vuoto Sacco uncia Poi Il pesto senza aglio Senza aglio Perché noi l'aglio fa male Perché noi siamo dei bambini Allora l'aglio ci fa Fa malissimo Poi mamma Due confezioni Due Uno maiz E uno magal Di mais Quante le comprate? Non le compreremo mai Poi Poi per Daniela Per fare la merenda a scuola Ho preso questi Mamma li mangio volentieri Mamma li mangio volentieri Erano in offerta Ed abbiamo presi Allora abbiamo preso Mousse di yogurt Bianco Con la granella Di pistacchio Poi Caffè e biscottini Caffè e biscottini Più mandorle Questo è Gusto vaniglia Con Le mandorle Da aggiungere Poi Mix di yogurt Al cocco Più palline al cioccolato Questo è per me Invece Che mi piace tanto Sì Lo yogurt al cocco Con le palline Poi ce ne sono Due al nocciolato Questo è sempre per me Nocciolato Signori Nocciolato Quindi è yogurt alla nocciola In più C'ha Le palline Più Crispi Mi piace Ogni tanto me lo mangio Eccola per Daniela Poi questo invece Questo è cito Oh Cookie cream Alla faccia Perché scendi lì e non scendi qui Questi Per far fare la merenda I ragazzi Me l'hanno voluto L'ha voluto Maria Chiara Fare la merendina a scuola All'interno ci sono Mi sembra tre biscotti E il pacchettino di Nesquik Veniva 89 centesimi L'ho preso Benissimo Poi mamma Poi Le palline al fieno Le rane che vanno nel fieno Ne abbiamo preso Uno, due, tre e quattro Giovanni Craca Come al solito Poi Sembrava suonassi il telefono No ma ormai c'è Le televisioni Le chiamavamo le visioni Zucchine Venivamo 80 centesimi al chilo Le ho preso un pacchettino Zucchine Zucchine Da 7 zucchine Dentro il pacchettino Poi abbiamo preso Uva Uva bianca da tavola C'è scritto così Si vede Non importa Tanta sempre Uva Peperoni E puparuol Puparuol Giallo, rosso e verde O culore di quale squadra? Le pere coscia Che Babbo, Daniela e Eva Ne vanno pazzi Soprattutto la coscia E se ne so Cuore di lattuga Per Babbo e Daniela Questi parosi Via Un sacchetto da 200 grammi Di rucola Rucola E due sacchetti di valeriana Sempre da 200 grammi Di uno Per calmare i polli Di spiriti di Babbo Se non basta E vorrebbe 3.000 puntali E poi Lo scalogno Che mi fa piangere Sempre Questo che fa piangere La mamma Infatti non capisco Perché lo compra Ancora se il fa piangere Due pacchi di grissini Per fare le varie merende Merende con la Nutella La Philadelphia Ste cosine così Con la box Che prepara i ragazzi Insomma I grissini ci fanno comodo Anche se si chiamano Grissinetti Si chiamano E poi Questi erano un'offerta Se ne prendevi due Uno lo paghi per intero E l'altro lo paghi la metà Il secondo E quindi ne abbiamo approfittato Sacchetto Si grissina Se poi Patatine da mezzo chilo Anche queste Piccole patatine per mangiare Anche queste le usiamo Per fare Dove sono? Ce la faccio Per fare i sacchettini già pronti Per portare la merenda Ai ragazzi E a Maria Chiara Perché Nadia no Ha la merenda in posta E deve fare la merenda Come tutti gli altri Babbo Cereali che piacciono tanto a Nadia Che gioia E che comunque Li mangiano tutti Ma Nadia proprio impazzisce Per questi cereali Esatto Invece questi Questi Perché questi Così Perché quelli da 600 grammi Non c'erano Quelli normali al cioccolato Non c'erano Proprio nella lista Per poterli prendere Normalmente prendiamo Quelli al cacao Da 650 grammi Forse non mi ricordo Però non c'era disponibile Poi mamma Poi questi sono buonissimi I frollini con grano saraceno Signori Ne abbiamo presi due Ne abbiamo presi due anche perché Hanno sbagliato pure l'altra volta Mamma si diverte con quelli fino Ma non se ne accorgi Che fanno No no vabbè Comunque Le voleva prendere uno Le voleva prendere Questi Ma te l'ho detto Forse ci ha rimesso una notaniera Non lo so Comunque vale la pena E fu così O forse aspetta Questi sono stati presi due Perché c'era l'offerta Lo sai Che uno lo pagavi la metà Ripeto Non me lo ricordo Però prendeteli Provateli Sono buonissimi Sono al grano saraceno Hanno le gocce di cioccolato fondente Sono veramente buoni C'è roba che Con due biscotti di questi Di sazi Perché sono belli Consistenti Proprio belli Grandi Sì Sostanziosi Insomma Piacevole mangiarli Non sono i classici biscottini Sottili Di copano di stelle E quindi insomma Comprateli Facciatele meglio Fatti gli biscotti Poi Siccome Ah Prendi quello Vabbò No prendiamo questi Che è meglio Sono Ok 12 12 cartoncini Di latte Parzialmente stremato Perché appena ci ha visto A noi si sta già stremando Da solo Adesso Parzialmente Perché Sta cociolando pure il latte Sta già cociolando il latte Ah ci cocciona tutto Esatto Sono 12 bustini Di latte Poi Poi abbiamo Lo scottex Lo scottex Ai tovaglioni Tovaglioni Rotolo signore Infatti Con le palline rosse e bianche Tutto apposto Ci avviciniamo a Natale Ormai Poi ci avviciniamo Al momento In cui abbiamo Fini di mangiare tutto E noi che cosa facciamo Carta igienica Comprami 600 strappi A costa Cosa succede Mamma Tutte le volte Noi abbiamo Cosa succede Ma io penso E loro lo sapranno A cosa serve la carta igienica No Come compriamo questa Perché noi abbiamo Esatto Comprami A noi come gli stupidi La compriamo E infatti poi diventa Con la faccia solida Poi siccome ci sentiamo Un po' Altolocati Siccome a casa nostra Ci sono tante persone nobili Abbiamo dovuto prendere Anche la carta regina Perché se non è regina Non possiamo andare Da nessuna parte E non possiamo fare Quelle cose Vabbè costavano lo stesso prezzo Mi ho preso un pacco in pacco Un saluto alla regina Che ci sta seguendo Soprattutto Poi siccome cade sempre Maria Chiara Maria Chiara sta stroppè Una condivazione Ne abbiamo preso Questi qui Che sono Abbiamo preso il formato XXL Questi qui Sono i piccoli cerotti Che usano Però Non ho preso il formato Sotto a questo Che è quello Leggermente più piccolino Ma questo c'è una cosa No sono finiti Comunque Allora Questo è quello Più piccolo Che abbiamo comprato adesso Poi abbiamo preso Quello che è un po' Più grande Aspetta Ma facciamo vedere Lo scatolone Questo è lo scatolone E questo è lo scatolino Questo è il formato Del cerotto XXL Quello piccolo Poi facci vedere Anche quello grosso Questo è il formato Guardate un po' Mamma Che cosa ha comprato XXL Questi sono i cerotti Dei bue E dell'asinello Lo vedete Comunque Maria Chiara Tante volte Cade Che si fa Per le sue Questo cerotto Che si fa Per le sue Vabbè Quante volte L'abbiamo usati Perché Con le sue problematiche Insomma Spesso cade E purtroppo Quando cade Fa delle pelle strusciate Si fa tanto male Quindi ci servono I cerotti Grandi Proprio XXL XXL Siccome noi stiamo Per finire Il tempo Nei video Abbiamo comprato Anche i fagioreti Tempo Così almeno Possiamo allungare Il tempo E possiamo stare Di più Dai papà Le ultime due cose Poi abbiamo finito Poi abbiamo preso Lenore Lenore Questi che loro Era un'offerta Lenore portofino A 1 euro e 89 Si portofino Gessomino scarlatto Si di portofino E gessomino scarlatto Eccoli qua L'abbiamo presi E li abbiamo fatti vedere Adesso mamma li mette Dentro alla bottiglia Dell'acqua E ce li beviamo Adesso Me lo hanno uso Vedete Già inizia a berli Che cosa stai facendo Io bevo per dimenticare Che cosa devi dimenticare Che sto bevendo Mi ricorda qualcosa Ricorda qualcosa Fammi sentire Mi ricorda Che cosa Lo sciroppo Quello di quando eravamo piccolini No a me mi ricorda Sempre No a me mi ricorda Io non so se voi Avete mai sentito Lo sciroppo Ma che sciroppo Il didò Mi ricorda No a me lo sciroppo Quello della fragola Di quando ero piccola A me ricorda Il didò Di quando eravamo piccolini Vediamo sto portofino Portofino Portocervo Porto chiedo Tu puoi tu Basta che lo porti Fammi sentire Invece Questo invece Sembra proprio Un portofino Mi piace più l'altro Oh apposta Abbiamo scoperto Che a mamma piace di più Questo Almeno così All'usarlo così Questo è il preferito Della mamma Messo in lavatrice No vabbè Il mio preferito Tra questi due Sto dicendo Vai per adesso Poi dobbiamo provarli Comunque Adesso direi Che possiamo andare A mettere a posto tutto Perché sta gocciolando tutto Esatto Dopo che abbiamo pulito Dobbiamo anche asciugare Pasta Sì Quindi signore Come di consuetudine Ogni volta che finisce un video Noi vi ricordiamo sempre Perché chi non l'ha fatto E vuole la piacere Qui sotto c'è un pulsante Che si chiama Iscriviti al canale E se questo strano video Vi è piaciuto Indovinate cosa Dovete mettere Un bel Like Io sono sempre distratta La mamma è distratta Se volete che la mamma È sempre distratta Dovete sempre Solamente Ufficialmente Attivare la nostra Fantasmagorica E l'acquistante Non cambia la padellina Che fa E più Ed infine Abbiamo anche un bellissimo Profilo di Instagram Dove noi facciamo vedere Un sacco di ciocche suole Vado Soprattutto Soprattutto Io che mi vedete mai Perché io non ci sto mai Ma non è vero Chi quando mai ci sto su Ogni tanto Quando mamma Mi prende di sfuggito Vabbè Comunque Il video finisce qua Ci vediamo Appunto al prossimo video E Allora A questo punto Ve lo devo dire Signore Iniziate a strapparvi I peli dal petto Perché i video Non finiranno mai Ci vediamo Al prossimo video Ciao belli